Ragazzi, come va? Sono Gabriel Batistuta. Sono in Argentina, ma ho saputo dei problemi avuti nei giorni scorsi in tutta la Toscana. Vi voglio invitare sabato 18 allo Stadio Castellani, dove faremo una partita amichevole. Scenderà in campo anche Gabriel Batistuta per aiutare la sua Toscana ferita. La partita solidale Metti in campo il cuore si giocherà sabato 18 novembre alle 20.45 allo Stadio Castellani di Empoli e vedrà da una parte la nazionale italiana Cantanti, guidata dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, con Fabio Capello e Sandro Giacobbe in panchina, e dall'altra i campioni del movimento Shalom. Il ricavato dell'incontro sarà destinato alle famiglie e alle realtà colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre scorso. Tra le presenze confermate al fischio d'inizio Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Niveo, Andrea Maestrelli, Moreno Il Biondo, Pierpaolo Pretelli e, come anticipato, il campione argentino che per nove anni ha vestito la maglia della Fiorentina vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Alla partita ha aderito anche Olimpiadi del Cuore, la Onlus di Paolo Brosio, personalmente impegnato negli aiuti con i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio. Sono stato proprio otto giorni, ho dormito lì e sono stato H24 insieme a tutti gli altri volontari. Io ho mai visto una roba del genere. Stiamo parlando di più di 20.000 famiglie che hanno perso tutto. Quindi è una devastazione economica, sociale, un'ecatacombe di elettrodomestici, di autovetture. C'è gente che ha perso tutto. Mi auguro appunto che sabato 18 novembre alle 21 ci sia tanta gente e che poi ci sia anche una colletta spontanea, perché la situazione è drammatica. Quello che è successo lì è una cosa incredibile, veramente. C'è gente?